Ciao a tutti ragazzi, qui Exavion e bentornati su Leggenda. Ebbene, eccoci qua nella location della nostra prossima missione. Wow, guarda un po' che bella città. Lì c'è anche una bella struttura di quelle gigantiche. Aspiderina se quella mi piace. Sicuramente la dobbiamo un po' visitare. Prima o poi lo faremo di certo. Allora, ci troviamo in una missione di recupero. Questa volta magari dobbiamo fare attenzione a non ritrovarci addosso qualche doggo, qualcosa del genere. Nel frattempo ho un po' pianificato alcune cose per strada. Ho creato intanto la cucina a casa che l'ho lasciato leggermente a lavorare con quel poco ferro che abbiamo accumulato. Almeno così quando torniamo speriamo di fare cose. Un po' il piano per quanto riguarda i punti ragazzi sarà quello di mettere un bel punticino per vena d'oro, per sbloccare i picconi. Ok. E così facendo in pratica mi metterò... Oddio. Ma che caspita sei sordo? Cioè completamente sordo. Così facendo dicevo durante la notte per esempio visto che abbiamo un... Un punto dove abbiamo del ferro a disposizione nella nostra base. Magari mi posso mettere lì e posso tranquillamente scavare e fare i punti esperienza necessari per intelletto. Perché voglio mettere i punti su intelletto? Perché vorrei poter arrivare a meccanico e creare le biciclette. Almeno una bicicletta oppure un veicolo. Comunque qualcosa ci serve per forza perché dobbiamo necessariamente rendere i nostri spostamenti un po' più veloci quando dobbiamo andare a fare delle missioni molto lontane. Perché letteralmente qui ogni volta ci stanno mandando sempre in posti veramente troppo lontani e abbiamo bisogno di guadagnare un po' di tempo. Non mi posso mettere ogni volta praticamente a farvi... A fare queste passeggiate lunghissime perché poi le risparmio. Ma io i ragazzi me le becco tutte quante. Me le subisco proprio. Ok salve infermiera. Vale scende. Ok. Soprattutto sarebbe bello poter mettere altri punti tipo su... Sul danno da abbassati perché non mi dispiacerebbe quasi one shottarli questi tizi. Soprattutto ragazzi sto pensando. Mi so che sto utilizzando la fucina e sicuramente farò... Ah che caspita di salto hai fatto? Sicuramente cercherò di mettermi a fare quanto più ferro possibile. Quindi mettiamo subito il punto così non lo dimentichiamo. Febbre dell'oro. Slocca tutti gli altezzi di ferro come picconi. Perché voglio fare questo? Come dicevo voglio fare quanti più punti esperienza possibili scavando. Così da evitare di fare avanti e indietro con le missioni eccetera. Così facciamo il veicolo. E ce ne usciamo. Mamma mia ho fatto un rumore pazzesco. E quindi speriamo di rendere anche il nostro gameplay un po' più fluido. Diciamo così. Ok non ci sono zombie qui dentro. Ok. Poi è giusto un'altra cosa. Ecco stavo parlando probabilmente delle frecce solo che l'ho dimenticato. Mamma mia. Stavo dicendo. Visto che possiamo utilizzare il ferro. Direi che poi proveremo le frecce di ferro. Vediamo un pochettino qual è la differenza. Sarà queste qua di pietra pezzenti. E quelle di metallo. Per vederlo ovviamente ragazzi è abbastanza semplice. C'è abbastanza andato sulla freccia. Andiamo qua. Danno a distanza 25. Velocità proiettile 45. Armatura bersaglio 0%. Non so che cosa intende esattamente. Forse è tipo l'armor penetration tipo. O roba del genere. Cioè se un player solitamente c'ha un'armatura. Almeno si sa che gli si può togliere. Comunque effettivamente perché non sto guardando qui che. Ce l'ho davanti agli occhi sta roba. Ok. Prima di andare però via. Che cosa abbiamo scusa? Come mai? Ah. Ok. Avevo ancora questi pantaloni schifosi. Non ci avevo fatto caso. Almeno abbiamo più protezione. Questo si può buttare. Non capisco perché non posso spostare questa roba ogni volta. Andiamo piano perché. Solitamente in questo palazzo. Se non sbaglio capita che ci sia qualche cane zombie. E nell'ultimo episodio purtroppo il cane zombie ci ha dato non pochi problemi. Soprattutto ragazzi. Potremmo fare finalmente. Un bel. Come si dice. Un bel coltello più avanti. Comunque molto presto. Perché non è aperta. Sta caspita di porta. Vediamo. Low. Preferisco spaccare questo perché è talmente molto più rapido. Cioè forse potremmo addirittura. Usare il metodo Minecraft la prossima volta per salire di qua. Ok. Qua se non sbaglio comunque. Mi pare che qualcosa di interessante potrebbe esserci. A livello di loot. Con questo tipo di ogie di casa. Sì. C'abbiamo un forziere ragazzi. Oh è anche una working stiff. Il top sarebbe trovare un bel piccone. A parte quel babbeo lì. Mamma mia proprio in the face. Mamma mia proprio sulle gengive te l'ho tirata stella freccia. Mazzarola poraccio. Un po' mi dispiace. Eri solo? O c'hai l'amico nell'armadio? No eri solo. No non eri solo. Eh porcellino. Sa che caspita avevano combinato in vita questi due eh? Eh fetente che ti nascondi nell'armadio. Fetente. Ok. Che cosa ci dai di buono? Allora questo purtroppo è un dardo. Però già la velocità dei proiettili del danno aumenta di un bel po'. Danno i blocchi 6 ma quello non ci interessa. Allora dai dacci qualcosa di buono. E la schema del macete. Va bene. E lo schema del mirino per 4. Va bene. Questi va bene. Li possiamo utilizzare. A questo punto li riscarpiamo. Questo lo scarpiamo. Nostra sono di livello 2 questi. Quindi li scappiamo pure. Whatever. Eh. Lo solito niente di... Cosa ho sentito? Oh faggio mamma mia sono saltato in aria. Fernando. Ma che modi sono? Vieni qua. Stupid. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Sei molto agile. Vieni qua. Ma com'è il braccio slogato è pure un'infezione? Ma faggio Fernando. Vabbè va. Ah. E vabbè. Antibiotici. Meno male che ho trovato del... Del miele. Mentre che tornavo l'ultima volta a casa. Oh mamma mia. Che situazione. Allora siamo infatti. No ragazzi. Stavolta ho sentito di nuovo un tipo lupo. Per forza dai. L'ho sentito. Poco ma l'ho sentito. Dove sei? Tipo verso destra. Magari me lo sono sognato. Oppure ho assolutamente gli incubi di trovarne uno veramente. Pollo. Ok. Hello. Dai Mr. Zombie per favore. Fai il bravo. Un attimo. Ok. Ciao. Ah ci picchia. Dobbiamo necessariamente pigliare un po' di mielo. Comunque abbiamo un bel po' di antibiotici a casa. Su questo c'è. Letteralmente l'infezione è l'ultima cosa che mi preoccupa. L'unica cosa che mi dà fastidio è che ovviamente il nostro vigore ora sarà tipo bassissimo. E quindi tornare a casa sarà un macello. Senza parlare del fatto che siamo anche un po' pieni. Quindi. Chicchi di caffè. Ritenere questo. Lo usiamo. Abbiamo un altro slot. Senti usiamo gli steroidi così. Non ci infastidisce il peso però va. Facciamo così. Easy peasy. E whatever tanto. Per cosa li dobbiamo usare sti cosi? Dai. Hug. Hug. Dacci qualcosa di buono. Predatore notturno. Gli archi infliggono il 10 per... Eila. Ma che bello. Yes. Però le altre missioni te le puoi tenere perché fanno veramente schifo. Totalmente schifo. Ok. Non ti posso vendere nulla quindi... Ciao ciao. Ok. Quindi per il momento direi che non abbiamo molto altro da fare. Questa scatoletta di scema. Ah whatever. Vediamo qua. Ok ragazzi. Ero qui intanto in casa che stavo facendo cose. Ho messo il piccone di ferro a lavorare. Dovebbe essere... Nel crafting eccolo qua. Ho fatto tutti i procedimenti, cose nel frattempo è arrivata la notte. E ho pensato c'è una freccia di ferro, c'è qualche freccia di ferro messa di lato. E sto guardando un po' la differenza. E... Diciamo che la differenza è veramente poca. A livello di danni. Certo è un po' più veloce quindi è meglio. Però allo stesso tempo non so se mi piace tantissimo. L'idea di usare del ferro per fare queste punte. Cioè magari se ne abbiamo tanto sì. Però forse... E' un bel problema perché sfortunatamente non possiamo fare quelle d'acciaio. Perché acciaio... Non dobbiamo facciare d'acciaio. Serve questo. Però il problema è che serve anche... Per fare la freccia di acciaio. Purtroppo serve guida al tiro con l'arco volume 4. E sfortunatamente è un po' difficile perché... Dobbiamo beccare giusto giusto questo. Ah, frecce di ferro perforanti. Si sa perché dice frecce di ferro perforanti. Cioè a prescindere dovrebbe essere questo qua il numero 4. E pazienza. Quindi dobbiamo avere un po' di fortuna magari nel dropparlo. E così via. Quindi purtroppo ci dobbiamo un pochettino arrangiare con quello che abbiamo. Comunque, come vi ho detto ragazzi. È notte però. Possiamo sfruttare tranquillamente questo tempo che abbiamo. Per finire questo episodio. Magari costruire un piccolo... Chalet? Non proprio. C'è una piccola casetta tanto per proteggerci dagli zombie all'esterno. Mentre che andiamo a... Mentre che stiamo scavando. Perché purtroppo come abbiamo... Cioè forse non si è visto effettivamente... In nessun episodio. Però c'è stato uno zombie che ha salito le scale letteralmente. Perché mi ha sentito. Quindi siccome sono in grado di salire le scale anche piuttosto bene. I simpaticoni. Costruiamo qualcosa noi. Lisi pisi. Perché è volante? Ah ok. Il terreno si rimette a posto. Quindi vogliamo vedere un pochettino magari di blocchi. Particolari. Perché no? Allora facciamolo da 4? No è da 5 poi. Soltanto che... 1, 2... 3 tanto questo qua poi sparirà. E così ci siamo. Bene. Facciamo bello alto. Perché ogni volta quando costruisco qualcosa lo faccio tipo stra claustrofobico. E sarebbe buono farlo un po' più normale. Diciamo così. Ok. Il nostro piccone è pronto. Ottimo. E magari... Vediamo un pochettino. Quali altri blocchi abbiamo a disposizione qui? Possiamo farla tipo una finestra? Non sembrerebbe. Vabbè. Allora vediamo un pochettino. Vogliamo provare a fare un tetto un po' più... Cioè non un tetto quadrato questa volta. Facciamo un tetto proprio tetto. Che ci assomiglia almeno. Vediamo cosa abbiamo. Perché in effetti non ci siamo... Non mi sono mai messo io personalmente a guardare bene sti cosi. Come funziona? Allora tu in teoria andresti tipo qua però... Vediamo come sei. Allora... Direi che facciamo quindi una cosa. Vediamo... Questi sono tutti angoli, angoli, angoli. Arco del telaio. Arco... Forse è troppo curvo questo così. Questo che cos'è? Non ne ho idea. Angolo completo. Cuno di te... Legno... No. Vabbè facciamo modalità avanzata così. Ecco qua. Non mi fa impazzire. È troppo curvo. Troppo brutto. Vediamo... Potrei fare direttamente questo effettivamente. Però vediamo questo qui. Così così dopo posso provare così... A mettere dei blocchi che vadano a completarle. Ok. Qua mettiamo... L'angolo. O no? Com'è combinato sto angolo? È proprio che non è questo proprio quello che ci serve. Ci serve... Questo, credo. Ecco. Diciamo che non corrisponde più di tanto. Forse... Beh effettivamente pure io la fisica da certi momenti... Non mi dimentico che esiste in questo gioco abbondantemente. Ehm... Mettiamo una torcia. Abbiamo bisogno di luce caspita. Si vede un accidente di notte. Come è giusto che sia. Ok. Ah. Bene. Allora. Fatto questo dicevamo... Dobbiamo salire un attimo sopra. Fortuna. Non è troppo complicato. Magari utilizziamo quindi... Dei blocchi molto più semplici. In realtà... Mettiamo questi. Vediamo come viene fuori. Mmm... Quando l'età avanzata mi fa abbastanza nervosire. Ah. Aspetta. Come li ha messi? Ecco. Grazie. Mettiamolo così. Ora. Dicevamo. Magari proviamo... Questo angolo forse va bene con... Questi. Non lo capisco purtroppo. Perché non riesco a vedere bene la forma. Effettivamente. Fite qualche zombie può essere. Perché no. Ah yes. Ora sì che ci siamo. Guarda un po' che carino. Va bene. Cioè ovviamente poi è da vedere... Ma c'è ancora la forma... Semplice. Oh. Così. Perfetto. Può essere che... Avanzato sulla facciata. Forse se faccio sulla facciata... Ha senso. Dobbiamo provarli questi comandi ragazzi. Perché vorrei costruire anche poi qualcosa di... Più completo o più avanti. Ok. Tu di certo non così. Anzi facciamo una cosa intelligente. Mettiamo tutti i blocchi... A completare. E poi... Mettiamo gli angoli. No big brain mio. Perché no. Ok. Quindi questo. Quindi se io faccio sulla facciata... Che cosa? Copia rotazione. Oh. Sulla facciata. No. Facciamo copia rotazione. Ok. E ci siamo. Quindi. Se adesso noi potenziamo... Questi blocchi. A parte il fatto che li manca. Non me lo sono dimenticato. Non vi preoccupate ragazzi. Di certo. Perché le frecce? Allora andiamo per il blocco normale. Un secondo. Ok. Potenziamo. È vero? Anche potenziare ragazzi. Ora che ci penso. Fa... Da un sacco di punti esperienze. È una cosa che non ho mai capito il perché. Ma davvero tantissimi punti. Cioè. Letteralmente una volta ricordo che sul Darkness Falls. In cui giocai in single player. Tanti anni fa. Praticamente costruì un terreno. Fatto di legno. E ho cominciato a potenziarlo tutto. Così da prendere punti esperienza gratis. Cioè. Quanti punti esperienza? Mille. Allora. Porta. Di legno. Vorrei continuare. Prima che sperisca. L'esperienza. Vorrei vedere esattamente quanti punti facciamo. Ovviamente ancora il tetto è aperto. Quindi di sicuro lo chiuderemo. Però. Almeno. Peccato che per fare tipo le finestre. Ovviamente ci servirà del. Del vetro. Quello magari lo faremo più avanti. Magari le lasciamo tipo una. Cosa così. Almeno così vediamo più o meno l'esterno. L'esterno. L'estensione che stava di. Mi dà tipo 70 per blocco. 57. Circa 70 punti effettivamente. Dalla chat. Si cerca di capire esattamente quanti punti sono. Sì. Sono 72 punti più o meno. Vedendo il calcolo parto così. Ok. Ah. Quindi adesso vediamo anche l'esterno ovviamente. Magari il tetto lo facciamo sempre più a salire. Chissà se possiamo farlo. Sto potenziando più. Andiamo. Ecco qua. Vediamo un po'. Come si vede dall'esterno. Non è male. Per niente male. La prima volta che uso questi tipo di blocchi. Ovviamente posso farlo un po' meglio. Questo è chiaro. Perché tipo a questo punto qui. Magari potrei aggiungere qualche blocco. abbellirlo eccetera. Però penso che vada abbastanza bene per cominciare. Poi vogliamo fare qualche scala di legno. Intanto la legna di certo non è il nostro problema per il momento. Perché comunque la posso farmare. Visto che tutti gli alberi che abbiamo qui vicini sono tutti piantati da me. E li posso ripiantare. Perché per fortuna sono così generosi da fornirci la roba. Così così farei una botola per il tetto. Uh vediamo se possiamo farla a botola. Yes. Facciamola proprio figo così. Why not? Why not? Facciamola facciamola. Però non mi ricordo. Ehi la. Scivolato. Incidente sul lavoro. Allora. Com'è? Allora. Ecco la dove mettere. Per così. Yup. Ecco qua. Ottimo. Adesso per continuare il tetto magari. Dovremmo dargli tipo questa forma così. Ecco. Aspetta altri telaio di legno. Ne facciamo un altro po'. Tipo una ventina. Al solito qua gli mettiamo gli angoli. Questi non sono giusti. Dai. Dammi la forma giusta. Ecco. Vediamo quindi se faccio sulla facciata. Ecco. Perfetto. Ah. Così praticamente li mette in automatico. Che cosa swag. Cioè. Molto comoda. Ok. Ok. Poi qua mettiamo ovviamente gli angoli. Ok. Shape. Angolo. Quindi sulla facciata. Non è proprio preciso ma. Bene. Qua gli lasciamo la botola. Va bene così. Pop. E pop. E poi qua. Per completare. Chiudiamo con un blocco di questo. Andiamo. Yeah. Abbiamo un tetto un po' più tetto. Un po' più umano. Potremmo dire. Fenomenale. Vediamo un pochettino se possiamo abbellire. Ulteriormente qua sopra tipo. Che cosa abbiamo come shape. Perché ho visto qualcosa di simpatico. Blocco centrale linea con punta quadrata. Lo so perché così sembra tipo la casa di Barry l'ognuovo. Che ne so. So che è David. Però ormai è Barry da queste parti ragazzi. Quindi. Mi dispiace. Bellino. Bellino. Ok. Oh. Non così di certo. Magari qua. Gli mettiamo un angolo. Tipo per così. Allora. Avanzato. Ehm. Andiamo. Andiamo com'è. Orribile. Ok. L'angolo deve andare messo un po' meglio sicuramente. Ma va bene così dai. Lasciamolo così libero. Fa più senso. Sì. 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 Va bene così. Magari qua. Vediamo qua davanti che gli possiamo fare. Che proprio a questo punto. Mi triggerà un poco. Ecco. Potremmo fare qualcosa. Tipo. Così. Oh no. Vediamo. Tipo una specie di balconcino. Sono troppo grossi questi blocchi. Vediamo se posso mettere qualcos'altro. Balestriera di legno. Freccia di legno. Trave di supporto. Addirittura delle trave di supporto. Un quarto. Vediamo se possiamo mettere tipo. Questo qua. Non lo possiamo fare tipo appiccicato al muro. Sarebbe fantastico per i dettagli. Potremmo mettere dei pilastri effettivamente sui fianchi. Vero? Vediamo. Tipo così. Mi piace. Sì, 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 sì. Bella l'idea di Viper 92. Mi è piaciuta molto qua. Ok. Le mettiamo volentieri. Mentre qua sul fronte magari ci pensiamo su a che cosa fare. Però così. Sicuramente ci stanno bene. Why not? Yeah. Magari dietro però. Chi se ne frega. Cioè. Intanto ci interessa di più il frontale. Poi pur sempre è una cosa per minatori qua. Sapete cosa potremmo fare? Mi è venuta un'idea con queste colonne. Altri te lai. Sì, 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 sì. Facciamo una cosa del genere. E poi. Gli mettiamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Possiamo sfruttare tipo le scale per dettaglio piuttosto. Stile Minecraft proprio. Yeah. Vediamo. Sì, perché no? Guarda un po'. Stanno proprio bene. Vediamo la torcia dove la possiamo splattare. splattare. Ok, no. La torcia così no. Assolutamente no. Vediamo se la possiamo mettere sulla punta. Sulla punta di Barry. La casa di Barry. Oh, oh. Ho l'impressione che la botola così ci scambi però. Se la chiudiamo però funziona. Non capisco perché. Ah, è leggermente volante. Peccato. Non la considera come un blocco... intero. Vabbè, va. Facciamo una cosa. Vediamo. No. Ripariamo. Vediamo se possiamo mettere qualcosa. Qualche altra shape. Vediamo cosa abbiamo. Possiamo mettere un'ultima cosa. So, ragazzi, che questo episodio è un po' più lungo, però volevo un po' rendervi partecipi di questa costruzione. E credo che sia una cosa buona tanto per cambiare una volta ogni tanto. Che ne dite? Spero che vi piaccia l'idea comunque. Ah, rampa inclinata di legno. Mi sa che la cosa migliore purtroppo rimane il blocco normale per questa cosa qua. Vediamo. Perché è troppo grande. Cioè, non ci starebbe male. Però purtroppo la torcia non si mette bene. Il problema è la torcia in sé. Vediamo. Vabbè, dai. Non è così orribile. No, no, no. Ci sta meglio del previsto. Va bene. Va bene, ragazzi. Quindi direi che abbiamo una bella casetta fatta per andare a scavare spatti. Direi proprio che facciamo una bella copertina pure. Aspetta, dove è la torcia? A questo punto perché si aveva un po' di luce. Yeah, boy! E fatto questo, ragazzi, direi che possiamo concludere qui questo episodio. Ovviamente, mo' passerò la notte a scavare, ovviamente, off camera, per almeno evitarvi la rottura della scavata, che è lunga abbondantemente. Io vi ringrazio per la visione, spero che questo episodio vi sia piaciuto e questa piccola novità di andare un po' a vedere cose nuove per quanto riguarda la costruzione. Soprattutto, spero che vi sia piaciuta e vi sia anche in qualche modo interessata perché, veramente, molto carino andare a lavorare un po' su queste cose ogni tanto, soprattutto perché, sinceramente parlando, ragazzi, abbiamo sempre passato il tempo a provare a distruggere zombie. Fare, dire, però non abbiamo mai perso un minimo di tempo a provare a costruire roba nuova e, sinceramente, mi sono divertito moltissimo. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio al solito per la visione. Mi sono dimenticato all'inizio della puntata di chiedervi il fattore della campanellina, però vi invito, ragazzi, a mettere la campanellina app accanto al pulsante iscritto perché vi arriva così la notifica di qualsiasi video o, in teoria, potete anche programmarla, però, diciamo che se la mettete potete vedere tutti i video. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao!